Ciao a tutti da Salvatore, grandissima sorpresa, un grande campione per voi, Fabio Basile. Ciao ragazzi, tutto bene? Mi raccomando, guardate me. E' messo in alto. Ecco, perciò mi raccomando, ricordiamo chi ti allena. Pierangelo Toniolo. Ecco, perciò... No, chi mi allena qui? Chi ti allena qua? Io pensavo a Giudo, chi mi allena qui è la più bella ballerina che non dico a nessuno e la più brava che ci sia, Anastasia Cusmina, number one. Ecco, perciò, questo è il messaggio di un grande campione, salutiamo tutti i due pazze che ti seguono. Saluta Antonio. Ecco, saluta Antonio e su web, dove ti trovano? Su Instagram. Instagram? Ho il mio... Però se mi mandate i messaggi non li leggo tutti perché me ne arrivo tantissimo al giorno. Ecco, però ogni tanto rispondi anche ogni tanto. Me ne arrivo talmente tanti che... Piano piano, dai. Ci proverò, ma è difficilissimo, veramente, credetemi. Ok, allora salutiamo anche tutti i pazze di Ballanto. Ciao ragazzi, mi raccomando, buonasera. Ciao, salutatore grande. Ciao.